E' una Teramo a spicchi in netta crescita, nonostante la sconfitta nell'ultimo turno contro la corazzata Matelica, i Biancorossi hanno comunque sfoderato una grande prestazione, dimostrando di poter competere contro squadre di primissimo livello. Abbiamo giocato bene, sicuramente Matelica è una delle candidate per vincere il campionato, per fare il stato di categoria, quindi comunque andare là con una squadra così giovane e giocarsi la partita fino alla fine è una gran cosa, soprattutto perché stiamo crescendo ogni giorno, si vede da ogni partita, penso che già dall'inizio del campionato fino ad ora abbiamo fatto grandi cose, quindi ora arrivano le partite che contano e penso che ci siamo per le partite che contano. I ragazzi di Coach Stirpe hanno ampi margini di miglioramento, così come confermato da Federico Caroè. Sì, sì, la scuola può crescere, sicuramente non è che andavamo a Matelica con la cosa di vincere, ma andavamo a Matelica per fare una grande partita. L'abbiamo fatta perché ricordiamoci che le partite da vincere non sono queste ma sono altre. Se le vinciamo, sciapo, se no, non fa niente. Per la prossima partita si tornerà a giocare al Palatasp per lo scontro diretto contro l'Olimpia Castello, un match da vincere per ottenere punti pesanti in ottica salvezza. Questa è una partita importantissima, una partita che dobbiamo vincere anche perché sono quattro punti che andiamo a portare, sia qua nella classifica che nell'altra classifica che poi ci porteremo. Quindi queste sono le partite da vincere e secondo me siamo pronti per vincerle.